Bentornati, vediamo cosa ci aspetta oggi, martedì 2 aprile 2019. Unwrap 4 minuti, un buy-in di 40 oppure 27 calories draw, 21 toast bar e 21 front squat. Poi 4 minuti di riposo, di nuovo 4 minuti unwrap con un buy-in di 30 o 21 calories draw, 15 toast bar e 15 front squat. Poi ancora 4 minuti di rest e di nuovo 4 minuti unwrap di un buy-in, ancora una volta con 20 e 15 calories draw, 9 toast bar e 9 front squat. Pesi scalature come al solito sulla grafica qui di fianco. Per oggi è tutto, ci vediamo domani per un altro Rubad Insieme su CperTV e naturalmente buona giornata a tutti!